Sanità verso la parità di diritti per i piccoli pazienti toscani, tutte le ASL aderiscono al codice etico, dal 7 al 10 settembre a Carrara la 18esima edizione del Festival Convivere, fuori dal comune 150 giovani tra Siena, Arezzo e Grosseto per fare cinema. Tutte le aziende sanitarie della Toscana hanno una linea guida a cui attenersi per l'assistenza dei minori fin dall'epoca prenatale, è il codice etico del diritto della persona di minore età alla salute e ai servizi sanitari, uno strumento di tutela dei minori bisognosi di cure elaborato dal Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza e sottoscritto lo scorso luglio da tutti i direttori generali delle ASL toscane. Il terreno era già fertile ma come sapete i diritti fondamentali della persona bisogna continuamente di essere tutelati, implementati e corroborati. È il primo codice etico che viene adottato congiuntamente da tutte le aziende sanitarie, ospedaliere e universitarie della Toscana e questo decisamente è un passo in avanti nella direzione di una tutela sostanziale dei diritti fondamentali delle persone di minore età. Un protocollo che punta a garantire parità di diritti a tutti i minori bisognosi di cure, indipendentemente dal luogo in cui vengono assistiti. È una giornata bella, la Toscana è sempre stata terra di diritti, una terra che non si è mai voltata dall'altra parte. Io penso che lo stato di democrazia di una regione, di un paese si misuri attraverso il livello di offerta sanitaria, attraverso la tutela dei bambini, attraverso la tutela di chi soffre, di chi è più fragile, dei detenuti. Ecco, oggi un ulteriore passo avanti in questa direzione. Noi abbiamo un obiettivo, fare in modo che un bimbo che nasca a Zeri abbia gli stessi diritti di un bimbo che nasce a Firenze e questo protocollo che mette insieme tutte le ASL, tutte le aziende della nostra regione risponde esattamente a questo obiettivo. Un risultato, quello del codice, ottenuto grazie alla sinergia con le aziende sanitarie della regione. Oggi mi pare sia un momento assolutamente importante di un lavoro fatto dalla Garante insieme alle aziende che punta a formalizzare l'impegno delle aziende all'adozione di questo codice, che è un codice che punta a aver scritto, aver formalizzato quello che è l'impegno importante che il sistema sanitario deve avere per i più piccoli, per i minori, con e nucleati al suo interno, tutti quelli che sono i diritti fondamentali che un minore deve veder riconosciuto dal sistema sanitario quando ha un problema di salute. Tutto pronto a Carrara per convivere il festival promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara che si terrà dal 7 al 10 settembre nella capitale del Marmo. Quella di quest'anno è la diciottesima edizione, quella della maturità. Una bellissima rassegna che per 18 edizioni ha affrontato i temi più cari ma anche più alti alla riflessione sul nostro appartenere alle comunità, sul nostro vivere e anche sul nostro esistere. Negli ultimi anni si è avvalso di una consulenza scientifica di altissimo profilo ogni anno, cambiando ogni anno il punto di riferimento e per quest'anno il tema scelto è umanità. Un tema che sfida il nostro pensiero e ci spinge a riflettere su ciò che ci rende quelli che siamo. Lo fanno potendosi avvalere di competenze, di esperienze artistiche e culturali di altissimo profilo che per diversi giorni a Massa Carrara e dintorni occuperanno la scena sollecitando i cittadini e aiutando una riflessione approfondita. Io credo che sia meritevole questa iniziativa perché non rinuncia a sfidare una dimensione pop di grande pubblico con una riflessione seria, alta, profonda e non sempre facilmente praticabile. Ecco, quindi questo coraggio rende loro onore e credo che dovrebbe essere fonte di ispirazione anche per altre manifestazioni. Una manifestazione che si è ormai attestata come un appuntamento culturale di riferimento per una platea sempre più estesa. Convivere è ormai una tradizione per la città di Carrara e per tutta la nostra provincia, un appuntamento culturale imperdibile che si è ormai imposto sul piano nazionale come uno dei festival più importanti per lo sviluppo della cultura e del pensiero. Gli orizzonti ormai che Convivere ha assunto sono orizzonti molto ampi che si ampliano e si aprono a esperienze anche molto al di fuori del nostro territorio e anche estere. Credo che sia doveroso da parte delle istituzioni dare a questo festival della cultura tutto il riconoscimento che merita, perché ormai il nostro territorio si identifica in questa manifestazione che ogni anno riesce a toccare temi di grande importanza e di grande delicatezza. Quest'anno viene affrontato il tema dell'umanità colto in tutte le sue sfumature anche come profonda riflessione dell'essere umano e del rispetto del prossimo. Credo che ci saranno molti momenti importanti di riflessione e di discussione nella città di Carrara e che ci saranno anche molti importanti momenti culturali e anche piacevoli nel contesto di una città che nei giorni di convivere torna a vivere e a mostrare tutta la sua bellezza. Un'occasione, quella del festival, che sempre più persone colgono per visitare Carrara e le sue bellezze. Sicuramente convivere e offre la città di Carrara un'occasione importante dal punto di vista culturale in primis, ma anche sicuramente da un punto di vista turistico, quindi un'occasione per poter visitare la città. Tra l'altro il festival intercetta anche occasioni di questo tipo perché sono previste visite guidate, visite ai nostri musei. Quindi alla diciottesima edizione possiamo dichiararci veramente soddisfatti del successo di questa manifestazione che continuiamo possa, che ci auguriamo possa continuare con tutto lo spessore di incontri ma anche di occasioni di altro tipo, quest'anno anche con un'inclusione, devo dire, a livello di istruzione, quindi la scuola, i ragazzi, i giovani, spazi per bambini. Quindi è davvero un'occasione che incontra il territorio tutto e che ci rende sicuramente orgogliosi come amministrazione e come cittadini. Grazie. L'edizione di quest'anno sarà dedicata al tema dell'umanità sotto la consulenza scientifica della professoressa Laura Beolla. Un'edizione con un tema estremamente sfidante che è umanità, quindi in tutte le sue variazioni, affidato a una ricercatrice, al suo spessore Laura Boella, con il sostegno perché queste cose non si fanno da soli. Noi abbiamo un comitato per il festival che comprende il comune di Carrara, la Camera di Commercio, l'Accademia di Belle Arti e la Fondazione Marmo. Una squadra che ormai lavora insieme da sei anni e ha acquisito un'intesa importante. In più siamo riusciti a coinvolgere tanti sostenitori privati che hanno progressivamente rinnovato la fiducia, quindi abbiamo una serie di sponsor che vanno dal monte al mare e ogni anno aumentano e questo ci aiuta molto nella programmazione. Ovviamente senza dimenticare il supporto che sempre Regione Toscana e Provincia ci danno tutti gli anni. 70 gli appuntamenti che animeranno le strade e le piazze di Carrara nel corso della quattro giorni di convivere. Ha un'edizione direi innanzitutto estremamente ricca di eventi e di iniziative anche per importanza. Abbiamo mantenuto come la scorsa edizione le conferenze e i dialoghi, quindi gli ospiti saranno moltissimi. Cominceremo con Laura Boella che è la curatrice di questa edizione, proseguiremo nei giorni successivi con Stefano Massini, Alessandro Bergonzoni e Vera Gheno. La conclusione con Tiro Mancino. La prima sera cominceremo con Frida Bollani-Magoni. Tutti gli eventi a ingresso gratuito che animeranno per quattro giorni la città di Carrara. Il programma completo del festival è a disposizione sul sito con-vivere.it. Sono stati oltre 150 i giovani under 30 protagonisti di Fuori dal Comune, il progetto finanziato e promosso dal Consiglio regionale della Toscana in attuazione della legge 3 del 2022 nell'ambito degli interventi per l'aggregazione giovanile. È un progetto che si chiamava Fuori dal Comune e l'obiettivo era vincere una sfida, una sfida vinta perché oggi quei progetti che sono nati dal basso, sono nati dalle ragazze e dai ragazzi, si stanno consolidando e sono contento che questa iniziativa che abbiamo svolto fianco a fianco ad Oxfam sia portando i frutti che ci aspettavamo. Coinvolgere i giovani, renderli protagonisti del presente e del futuro, costruire le condizioni per creare socialità e dare risposte ai territori. Territori diversi che si sono messi insieme, territori con storie differenti che sono riuscite a costruire una proposta comune. Quindi un grazie a tutti loro e un buon cammino perché ci sarà ancora tanta strada da fare. L'iniziativa si è sviluppata con tre giorni di laboratori gratuiti che si sono tenuti a Siena, Arezzo e Grosseto con le ragazze e i ragazzi che hanno avuto la possibilità di sviluppare le proprie competenze nel campo cinematografico partecipando al lavoro della troupe e creando tre video. Sì, io lo definisco un progetto straordinario, unico nel suo genere. Va riconosciuto che è stata un'intuizione. A me avevo in testa quest'idea di rendere i ragazzi co-protagonisti di una progettualità, uscire di casa, dare loro uno spazio, uno spazio comune che dovesse essere nelle città, un'area urbana da riqualificare, non da riqualificare né con soldi del PNRR né con opere pubbliche che molte volte sono ovviamente prive di emozionalità, ma provare con una dimensione relazionale a dare emozione ai ragazzi. Questo era l'obiettivo che mi ero posto quando ho dato vita a questa legge, condivisa poi dall'Ufficio di Presidenza e dal Consiglio regionale. Uno stanziamento economico importante, ma nel contempo non chissà cosa, ma che però ha dato un moltiplicatore straordinario, perché ha dato vita a tanti giovani che soprattutto dopo la pandemia hanno trovato dei livelli di socialità nuovi, non scontati, relazioni, e poi da questo possono nascere tante cose. Un progetto realizzato da Oxfam Italia e dalle associazioni giovanili a Rettine, Farrago e Arezzo che spacca. Noi abbiamo fatto delle full immersion di tre giorni in queste città dove abbiamo seminato e stiamo cercando anche di raccogliere tuttora adesso perché abbiamo mantenuto dei rapporti molto stretti con i gruppi delle tre città. L'intento era quello di rigenerare spazi e competenze e abbiamo capito che con un piccolo sforzo in più e con un po' di continuità tutto questo è possibile anche negli spazi più abbandonati. Abbiamo fatto proprio un percorso formativo mirato sia alla costruzione della band in sé da un punto di vista più formale sia da un punto di vista pratico nell'andare ad applicare delle migliorie musicali in quello che già erano dei progetti bellissimi appunto sia Siana che a Grosseto che a Arezzo. Sostanzialmente abbiamo fatto tutto ciò sia per dargli un futuro già migliore e avvantaggiato nel mondo della musica sia per andare a concludere questa bellissima esperienza all'interno della cornice del Lab 2030 da Arezzo con un concerto finale con tutti e tre i partecipanti. Abbiamo trovato innanzitutto una voglia di creare una comunità. Tante persone grazie a questa esperienza hanno scoperto che incontrare gli altri è una cosa bella, costruire il proprio futuro insieme alle altre persone è meglio che costruirlo da soli anche in discipline artistiche che di solito puntano allo sviluppo solamente personale. Noi abbiamo provato a mettere a sistema i nostri percorsi di appartenenza la musica e il cinema al servizio della costruzione di una comunità che punterà a essere sempre più regionale e quindi speriamo di andare avanti con questo progetto che è stato veramente bellissimo. Per questa edizione è tutto, potete seguire le attività del Consiglio regionale e le dirette delle sedute consultando i link alla pagina Ciao!